Salve a tutti ragazzi, sono Zetawillix, benvenuti in questo nuovo speciale di Halloween sul canale di Ersato E dopo anni sono ritornato anch'io sul canale più dopatissimo di tutta Youtube Italia E oggi andremo a vedere il mistero della casa del cacciatore pazzo Praticamente per entrare in questa casa abbandonata dovete salire sopra questo carro ed entrare dalla finestra Una volta dentro la stanza ragazzi ci sono delle cose veramente assurde La più assurda di queste è tipo questa combinazione di corpi, di animali diversi che creano questa scultura di un mutante Cosa ci potrebbe essere qui? Cosa ci potrebbe essere stato soprattutto? Innanzitutto c'è un cammino acceso, quindi direi che questa è una stanza che viene usata frequentemente Ma è questo coso che fa veramente paura, veramente paura Ma cos'è? Ci sono diversi pezzi, qui pare una sorta di lupo, cinghiale, ali Quante zampe c'ha? Pare un deo, se è un deo, un dio, un dio buddista Una cosa allucinante proprio Cinghiale uomo, oddio, cinghiale uomo, una testa cinghiale uomo Questi sono studi da malato di mente, davvero malato di mente Ma è assurdo, mi ricorda molto, non aprite quella porta, dove il maniaco, il killer Si costruiva tutti i arredamenti con pezzi di animale, di umano, anzi no, di umano, in quel caso era di umano Davvero Edo, è incredibile, non so se è presente, ma questa stanza ricorda molto anche la casa del personaggio Che vediamo in Detroit Become Human, dove c'è questo tipo che si chiama Zlatko In cui praticamente rapisce Devianti per farci degli esperimenti sopra Un po' come ha fatto questo cacciatore squilibrato Infatti chissà da quale film Rockstar Games si sia ispirata per creare una pazzia del genere Abbiamo trovato qualcosa? Ah, un bel orologio, non male Qui, vedete, proprio questo sembra un letto delle torture quasi Io non vorrei che certi soggetti siano stati proprio bloccati qui E proprio, cioè, tagliati, sminuzzati da vivi Eh, laureato, sa disegnare, sa pure cacciare Strano vedere una persona con molti talenti perdere tempo in queste cose Ah, comunque, leggi gli appunti 13 agosto, la creatura è pronta Alcune parti sono sotto ghiaccio pronte per l'intervento Ormai è questione di giorni Immensa creatura Creatura Oh mio Dio ragazzi Qui, cioè, si sta facendo un esperimento Oddio, ecco qui Questo più che sotto ghiaccio Sott'acqua Ma poi acqua muffita Tutti i batteri Schifoso Sozzo proprio Sozzo Questo è un po' stranamente inquietante Potrebbe essere successo di tutto qui dentro Veramente Il peggio killer Guardate questo lavandino Oddio, che schifo Qui altri disegni Un'ala Un'ala Qui probabilmente c'è una sorta di Di Frankenstein Si sta cercando di costruire Ah, da volto io due chili circa Questo mi sa che per fare tutte ste cose Ha abusato di sattoga Dopatissimo però Anche malato Qui altri cassetti Pure Un cuore d'orso Sa anche picchiare Mamma mia ragazzi Io ho quasi paura di questo Quasi paura di questo Mi ricorda molto Il killer con la faccia da maiale Che è un easter egg classico Diciamo Della Rockstar Games Presente già In GTA San Andreas E si riferisce al videogioco anche Manhunt Dove uno dei protagonisti È appunto Il killer con la faccia da maiale Piggy Ma soprattutto mi ricorda Non aprite quella porta Con questo personaggio Che Questo protagonista Che costruisce proprio Degli arredamenti Delle lampade Ma tutto di più In pelle umana Con pezzi Proprio di corpo umano Oppure appunto Anche Frankenstein La grandissima opera inglese Che Veramente Era Uno schifo Era un tentativo Di costruire un essere umano Vivente Dai pezzi Dei cadaveri A proposito di cose vive Secondo te Questo cacciatore È vivo Oddio Io vi auguro Di non essere catturati Da questo personaggio Malato di mente Perché se no Siete veramente fregati Ragazzi Ma è strano Cioè Secondo me È vivo Perché comunque Non sembra Un posto Abbandonato da molto Se ci fai caso Tutte queste cose Non sono Tipo Piene di polvere E non sembrano Così rovinate Dal tempo Quindi secondo me Questo pazzo È in circolazione E lo possiamo Trovare in gioco Anche se chiaramente È un Bisogna nerdare Ore e ore Per trovare questo stronzo Che ha fatto Ste cose malate Ecco Prima di incontrarlo Comunque Secondo me Se il cacciatore È pazzo Sicuramente Gli sviluppatori Per fare una cosa Del genere Lo sono ancora di più Su di quello Proprio Non ci piove Perché del resto È per questo Che abbiamo messo Questo easter egg Questo esperimento mutante All'interno di questo video Il terzo episodio Dei misteri e stranezze Per Halloween Uno speciale Halloween Appunto Per celebrare La festa Del macabro Dell'orrore Del gusto Proprio Del non gusto Direi Anzi Del non gusto Fa veramente Tanta paura Poi abbiamo fatto Anche un altro video Sul canale di Willy Che vi invito a vedere Una compilation Di easter egg Sul macabro E più o meno Sul macabro Anche delle Creature mitiche Diciamo Da notare anche Tutte le cose macabre Che possiamo osservare Sul tavolo Come i teschi Il mini alligatore Cioè questo vuole creare Un alligatore Con le corna No vabbè raga È assurdo Sto easter egg Veramente incredibile Veramente Veramente Assurdo Ci sarà di sicuro Di più da scoprire Anzi nei commenti Iscriveteci Se sapete Se sapete voi Qualcosa di più Continuate sempre A segnalare Ricordatevi di passare Sul canale di Willy Ci tengo anche A ringraziare Ludovico Cerchione Che mi ha passato La clip Per fare questo video Chiunque Che vuole Chiunque voglia Può mandarmi Delle clip E partecipare Ai video È una cosa davvero Molto bella Che crea un senso Di comunità Secondo me Molto molto Dai Diciamoci la verità Toccante Molto toccante Sicuramente un sentimento Non da Halloween Comunque Salutiamo Per un'ultima volta Willy Bella a tutti Un saluto A tutti gli iscritti Dopatissimi Del canale di Ersato Ci sentiamo Al prossimo Video